Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè della Salute con Cucina Naturale. Oggi siamo in compagnia di Renata Bracale. Ciao Renata! Ciao, buongiorno! Lei è ricercatrice in nutrizione all'Università del Molise. Sì, buongiorno! Con te parliamo oggi di alimenti e gastrite. C'è una correlazione tra l'alimentazione e la gastrite, questo male di stagione un po' influenzato dal cambio di stagione e dagli stili di vita? C'è una correlazione tra alimenti e gastrite? Assolutamente sì! In questo momento in cui c'è il cambio di stagione in atto bisogna stare maggiormente attenti all'alimentazione per prevenire i sintomi della gastrite. E quindi fare attenzione a ciò che mangiamo, avere uno stile di vita corretto. Direi che la prima regola è mangiare all'orologio, cioè ricordarci di mangiare sempre alla stessa ora. Quindi tre passi regolari, ma regolari sempre alla stessa ora. Ci spiegano gli nutrizionisti come te che ci sono due grandi nemici, carne rossa e vino. È vero o è falso? È vero, ed è vero soprattutto la sera, perché i tannini che sono nel vino rosso, che normalmente sono antiossidanti, potentissimi, che ci fanno bene, in realtà in questo caso abbinati con la carne rossa, che cosa fanno? Bloccano le proteasi, ossia gli enzimi che servono per digerire proprio le proteine della carne. E quindi noi rischiamo di passare anche tutta la notte in bianco per digerire e per i dolori quindi tipici della gastrite. Non è una buona cosa, quindi possiamo aiutarlo. Invece gli alimenti amici dello stomaco quali sono? Che possono aiutarci un po' a contenere la sintomatologia? Perché ovviamente non possiamo curarla, però contenerla. Certo, certo. Allora fare sicuramente attenzione come ho detto all'orologio e quindi mangiare è importante. E poi scegliere degli alimenti come i cereali, ancora meglio i cereali integrali, frutta e verdura che siano presenti almeno in una porzione a tutti i pasti principali. Questo è molto importante. Per chi ha una sintomatologia più forte allora magari scegliere sicuramente verdure e frutta cotti o anche frullati. Questo può aiutare perché la fibra è abbondante. E poi scegliamo proteine quindi che vengono per esempio dalla carne, dal latte, dal pesce però senza grassi. Quindi evitiamo brodo, diciamo carne, stracotti, cioè quindi qualche cosa di molto pesante oppure che è visibile all'occhio ricca di grassi. Questa è una raccomandazione che faccio. Grazie mille Renata di tutte queste indicazioni per gestire la nostra gastrite. Io ti ringrazio per il tuo tempo e a voi do appuntamento alla prossima puntata qui nella mia cucina. Grazie.